Ciao! Come vincere la timidezza? Allora, ci sono persone molto timide che non sanno come superare, come vincere la timidezza. Allora, per fare questo devi tenere presente una cosa, che se sei timido è perché la timidezza soddisfa una tua parte emotiva, cioè c'è una parte di te che gradisce essere timido, che si aggancia sulla timidezza. Allora, questa parte non è sicuramente la parte logico-razionale, ma è la parte emotiva. Quindi vuol dire che se tu vuoi superare, vuoi vincere la timidezza, devi essere in grado di farti amica alla tua parte emotiva. E quindi, in prima istanza, devi dargli timidezza, cioè devi metterti in tutte le situazioni in cui normalmente provavi timidezza, proprio per favorire la parte emotiva, in modo tale che nel momento in cui favorisci la parte emotiva, hai subito trovato un modo per, diciamo, dare emozioni alla tua parte emotiva, anche se sono emozioni che alla parte logica non piacciono, cioè ti auto-penalizzi fondamentalmente, ma questa auto-penalizzazione permette di creare un'alleanza, un'alleanza tra parte logica e parte emotiva. Nel momento in cui sei creata questa alleanza, la parte emotiva capisce che tu sei comunque dalla sua parte e allora smetterà di farti sentire timido, anche perché tu la saturerai un po' di timidezza. Cioè, sei timido con le donne? Beh, approcci tante donne, non tanto con lo scopo di avere successo, quanto con lo scopo di viverti le emozioni. Questo è il modo migliore per superare rapidamente la timidezza. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!